Io a Natale faccio dei biscotti e io apro i regali. Io a Natale preparo l'albero. Io a Natale decoro la casa e l'albero, metto i regali vicino a... Io a Natale decoro l'albero, decoro la casa e preparo dei biscotti. Io a Natale decoro l'albero. Faccio dei biscotti e decoro la casa. Il babbo Natale venne a casa per deporre tutti i regali il 24 dicembre. Io a Natale preparo la cena, mangio la fondue, una specialità al formaggio nella quale mettiamo il pane. Andiamo da mia nonna a fare un grande pasto con tutta la mia famiglia. Quando finiamo di mangiare, poniamo i regali di babbo Natale e li apriamo e poi torniamo a casa. A Natale dopo la cena facciamo il gioco. Gli metto i regali sotto l'albero di Natale. A Natale io faccio il mio albero di Natale e io mangio il pane. Gli metto i regali sotto l'albero di Natale. Grazie. Grazie.